Bentornati con noi su Vitality Tao. Oggi vi spiegheremo un trucco. Quante volte avete provato a fare la verticale, per cui l'handstand, in questa maniera, cercando di portare il vostro bacino sopra le vostre spalle e non ce la fate ancora. Tranquilli, è normale, ci vuole tempo, a volte anni, ma non scoraggiatevi perché noi oggi vi insegneremo un trucco per poter portare il vostro bacino e cominciare ad avere un inizio di verticale. In questo caso chiediamo a Francesco di posizionare le sue mani con le dita ben aperte al suolo. Vogliamo anche quasi vedere le sue dita bianche dal tanto che lui fa pressione sul tappetino. Questo è il primo fondamento per l'acroyoga. Secondo, per dare questa pressione dobbiamo portare le nostre spalle sopra i polsi e generare la posizione di cucchiaino sulla spalla, per cui chiedo a Francesco di spingere, di fare questo hollow. Adesso gli chiedo di camminare leggermente più avanti e gli chiederò di alzarmi questa gamba. Io come spotter aiutante la poggio sulla mia spalla e Francesco comincia a spingere il suo bacino su. Il terzo punto è che io spingo in alto la gamba e presto mi pongo dietro. Qua dietro perché vogliamo fare da spotter, non vogliamo appunto che Francesco cada in nessun lato, per cui lo aiutiamo leggermente a trovare il suo punto e successivamente mani sul fianco e Francesco sceglie la maniera che preferisce per poter scendere. Mi raccomando, avete ben visto che le mie mani rimangono sulle sue creste liache fino al punto in cui Francesco ha i piedi per terra. Provate anche voi a fare questo esercizio e fateci sapere. Alla prossima! Namaste! Namaste!